All right, go! Buongiorno fiamme e benvenuti a un nuovissimo super video dove oggi vi porterò con me su un'avventura molto molto lunga. Se siete nuovi qua, io mi chiamo Sofia Campana, benvenuti a Sofia Lede, è un grandissimo piacere di conoscervi. Stringimi la mano un attimo, bravi! Se volete diventare delle fiamme nuovissime, andate giù a cliccare quel subscribe button e potreste diventare parte di questa super famiglia con il nostro fuoco interiore sempre acceso. Andiamo avanti nella vita con un'ambizione fortissima, ambizione. E' importantissimo mentre guardate questo video, se trovate dei screen bellissimi, postateli su Instagram che io riposterò quelli più belli sul mio profilo personale. Mi raccomando, tanti memi ragazzi, tante memi. Io oggi sono andata alla nail salon per farmi fare le unghie. Vi faccio vedere qualche clip dal manicure posto. Nei commenti lasciate una bella preghiera per Sofia Lede oggi perché sto andando all'allenamento dopo e mia allenatrice mi ucciderebbe sapendo che sto facendo questa cosa. Siamo a step 1 di questa giornata e già ho dovuto avere l'invito dalla signora che mi sta facendo le video per aprire la fotocamera e accenderla. Stiamo scegliendo il colore per fare o questa, tipo Barbie rosa, o questa che è un po' più brillantinata. What do you think Kim? This one or this one? I like it, this one. That one's pretty, huh? Yeah. Ok. Sono lunghissime. Kim, how beautiful are these nails? They're pretty beautiful, huh? Yeah. I like million dollar bills. Call me. Ok. Let's see it soon. Let's do this, baby. Ok, ragazzi andrò molto piano perché tipo, se avete mai fatto le unghie, se avete che tipo, fanno un po' male inizialmente e perché tipo la colla è fortissima e questi fanno doppio male perché c'è doppio colla. Wee. You kind of look at old grandma. Oh my god. Ok, piano da giorno, vado un palestra adesso, vedo cosa riesco a fare perché sono davvero arcatissime, se le vedete. Non riuscirò a poggiare la mano per farla verticale, mi sa, cioè sono tipo degli arcobaleni sulle mie unghie. Dopodiché pranzo, passo un po' la sera qui con mia famiglia e domani mattina vado a togliermele. Nei commenti, ragazzi, mandatemi il vostro amore e commentate con un bel in bocca al lupo. Vi prego, mandatemi tanta tanta buona fortuna nei commenti. Devo prendere questo zip. E, ok, ragazzi, quanto sono in tinta oggi, comunque, cioè, siamo a livello Sophie Land, proprio arrivato sulla pianeta di Sophie Land, con i nostri colori e tutto il glitter. Ok, ho sotto questa bellissima maglia di Sophie Land, un body, che adesso dovrò tirare su. Ok, ho avuto l'idea bruttissima di rifare la coda e quindi... Oh, honey. Se avete visto la mia nuovissima collana, quanta bella, usciranno presto sul mio sito. Non sopporto delle dita. Provo ancora. Oh, my gosh. There you go. No. Volevo farlo si io con no riesco. I can't snap. No. No. Sì. le inghie ragazzi mi toccano la mano oh i'm cringing ho tipo messo il dito sopra no non riesco ragazzi sento quando vado giù questi che spingono così fortissimo no 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 per tutte le fiamme che hanno letto il mio libro vi presento il famoso taric no no ok sto cercando di andare in impostazioni per cambiare qualcosa della mia fotocamera oh visto che l'esperienza in tanto l'estero è stata una mega fail adesso sto andando a prendere dei nuggets la 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 vi piacciono quindi sono belle ok sono abbastanza certa che ho scelto l'outfit più complicato da mettere su e che ho appena preso questi jeans e sono davvero carini quindi vorrei davvero metterli che male mami that is on the vlog I have to do it with me thank you for mummies voglio mettere questo gloss per i tiktok che sto per fare lo faccio ad una canzone di cardi b perchè mi sento davvero di aver tirati fuori il cardi b in me oggi sono le se riesco a prendere il mio telefono qua 7.34 e sto per mangiare la cena e mia mamma ha preso il cibo messicano buonissimo carne assata con i fagioli il riso buon appetito ascia we sentai che male mi sto mordendo fortissimo le unghie pure stelle pensano che sono tipo un gioco aia wisen mi fai male ok è ventanotte e io e wisen e stelle siamo qui siamo pronti a dormire io adoro dormire tipo così con la mano sotto tipo la testa solo che così mi fanno male alle unghie perchè sono così rotonde che le schiaccio e mi le spinge tipo e quindi non so come dormirò sweet dreams e ci vediamo domani mattina per togliere le unghie non vedo l'ora buonanotte e fiamme buonanotte e fiamme ok fiamme il giorno dopo e io sono tornata al posto dove faccio i manchiure per togliere queste bellissime unghie siamo diventate veramente amiche unghie bellissime da principessa unicorno su bianende siete stupendi sto parlando piano perchè ci sono altre persone in questo posto e lasciate un super like e like e ragazzi non dimenticatevi di mettere i vostri screen migliori da questo video su instagram tagatemi ed io riposterò i migliori sul mio profilo personale correte e iscrivetevi su film per altri video bellissime come questo ciao fiamme vi voglio bene ciao unghie ciao 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 ciao